Il signore è il signore e scrive al presidente del Pakistan per chiedergli che mi faccia ritornare dai miei familiari. Asia Bibi, la cristiana detenuta da 1357 giorni nel carcere pakistano di Sheikupura perché è accusata ingiustamente di blasfemia, ha scritto una lunga lettera dalla sua cella senza finestre. Una lettera che ha dato il via a una raccolta firme promossa dal quotidiano avvenire per chiedere al presidente del Pakistan, a Sif Ali Zardari, la liberazione della donna, una campagna che aveva lanciato circa tre anni fa anche TV 2000. Grazie, grazie davvero. Ho ricevuto le tantissime firme che mi avete consegnato che esprimono il vostro sentimento. La cosa più importante che mi piace sottolineare è che in Pakistan tutti i cristiani sono veri pakistani, vivono pienamente la loro vita. La vicenda di Asia Bibi è spiacevole, ma non possiamo aggiungere altro perché il processo è ancora in corso. L'appello ha messo insieme oltre 30.000 italiani in poche settimane. Le firme, insieme con le lettere cartacee e le email giunti ad avvenire, sono state consegnate all'ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan in Italia, la signora Temina Yanua, dalla presidente dell'Associazione Parlamentare Amici del Pakistan, Luisa Santolini, dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio e da Stefano De Martis, direttore di TG2000.